Nel tetti del Palermo c'è un cross da Chimenti, dalla bandierina di Chimenti, la palla scavalta un gruppo di giocatori delle due squadre e segna Ponte di testa con un tiro che dall'alto scende sulla sinistra del portiere della Ternana. Qui c'è il pareggio della Ternana e la sinistra Ternana, ricevuto un passaggio da destra, tira al volo fortissimo sulla sinistra del portiere del Palermo e lo batte imparabilmente nell'angolo, come vedete.